Per insieme portare avanti un progetto partecipato negli sgambatoi per animare la città, per fare un po' di luce su quelli che sono i modi corretti per rapportarsi con gli animali, per ravvivare Vercelli. Molti sono qui, molti no. Parliamo di medici veterinari, di negozi che si occupano di prodotti per animali e di associazioni animaliste. Insieme, e grazie quindi a tutti quelli che hanno partecipato, abbiamo realizzato questo progetto che dal 30 di maggio fino alla fine dell'anno, con un incontro al mese, animerà i vari sgambatoi cittadini. Io passerei la parola a Cristiana che ci racconta qualcosa del progetto fotografico che è legato al progetto di sgambamento. Grazie, grazie. Buongiorno, mi chiamo Cristiana Fulin. Seguirò il progetto facendo delle foto durante gli eventi che si svolgeranno, ce ne sono otto in programma, ma anche ai proprietari di cani con i loro cani, i loro gatti. Insomma, il progetto è tanto, si vuole educare, si vuole fare propaganda e si vuole anche andare avanti oltre al progetto fotografico. Cioè, si vorrebbe che fosse finanziato sì, ma per rifinanziare altro sempre ai fini di educazione, anche microcippare, insomma, tante cose che si vedranno durante l'arco del tempo. A te. Io sono Teresa Marcon, sono la coproprietaria del negozio I Pelosi, assieme ad Elisa Zanoni. Qua sono da sola, però siamo un gruppo di negozianti che hanno visto in questo progetto un bello spunto per aiutare i cittadini che sono proprietari di animali, che sentono la necessità di avere diverse informazioni, che sono come comportarsi, piuttosto che l'aiuto veterinario, piuttosto che proprio come vivere nella maniera migliore proprio con il suo, con il proprio animale. Ecco perché sono qua, assieme appunto all'amministrazione e a tutti i colleghi, che aiuteranno appunto i cittadini a migliorare questo momento di vita quotidiana. Io sono Claudia Tugnolo, addestramento Luna Rossa, siamo qua rappresentanti in tre e mezzo, per la verità, anche un'altra socia che è in borghese. Ci occuperemo di animare i momenti nei quali ci incontreremo all'interno degli sgambatoi, perché ci sarà una parte un pochino più tecnica, un pochino più seria e poi ci sarà una parte che noi cercheremo di svolgere con delle attività cinofile, quindi vi faremo vedere quanto e come sia bello fare delle cose con i nostri amici cani. Quindi come dice il nostro volantino, noi ci siamo e speriamo ci siate anche voi tutte le volte che ci incontreremo in questi appuntamenti. Grazie. Daniele Sorussoglia, veterinario ASL, partecipazione dei veterinari sia ASL sia libri professionisti dell'ordine dei medici veterinari delle province di Vercelli e Biella, per la parte diciamo tecnico-sanitaria sia rivolta alla profilarsi delle malattie infettive quali filariosi, lesmagnosi e principali vaccinazioni, e una parte pur sempre sanitaria che è quella dell'identificazione dei cani con microchip e le modalità di conduzione dei cani e per evitare anche le aggressioni e le morsicature. Sì, quindi allora per chiudere un progetto tutelo gratuito, il primo appuntamento è il 30 di maggio allo sgambatoio Cantarana vicino alla Bennet, verrà poi pubblicizzato sulla pagina Facebook del Comune di Vercelli con dovizia di dettagli e ci auguriamo una fitta partecipazione. Grazie. 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 Grazie.